Stasera a Nuoro, nel giardino della biblioteca Saatta, il vincitore del premio strega Antonio Scurati, che invita a leggere il suo libro Senza Pregiudizi. L'ha incontrato per noi Miriam Mauti. Solo una settimana fa Antonio Scurati vinceva il premio strega 2019 con M, il figlio del secolo, il suo ultimo romanzo, che questa sera lo scrittore racconta a Nuoro. Ospite della scuola di lettura e scrittura istituita dalle università di Sassari e Nuoro. Anzi, più di lettura che di scrittura. Insegnare a scrivere ai ragazzi, nella maggior parte dei casi, è un modo per insegnare loro a leggere, per formare dei lettori invece che degli scrittori, rendendoli partecipi. Come deve essere letto un libro come M, il figlio del secolo? M, secondo me, deve essere letto senza pregiudizi e senza requisiti. È la peculiarità di questo romanzo che si distingue da tutti i tantissimi, ottimi, necessari libri di storia. Appassiona, coinvolge e poi ci si forma un'idea ben precisa di condanna di Mussolini e del fascismo, ma alla fine della lettura, non all'inizio. M, la storia in prima persona, che ha convinto i giurati ed il pubblico, che ne ha amato anche il reading in tv, in un paese che discute se studiare ancora la storia. C'è bisogno di storia? Sentiamo il bisogno di appartenere ad una vicenda più ampia, che venga da lontano, dai nostri padri, dai nostri nonni e vada lontano, vada oltre di noi, ai nostri figli. Bisogna insegnare la storia con rigore, ma con un forte impianto narrativo. Quando lo fai, non sono certo l'unico, il pubblico risponde. Anche di giovani e giovanissimi. Basta fare un giro in rete e vedere i commenti che lasciano.